Buongiorno a tutti da Newsmondo. L'incidente del fischio durante il minuto di silenzio per Gigi Riva a Riad rivela differenze culturali e sfide nel mondo del calcio. Durante la Supercoppa italiana a Riad, il pubblico ha fischiato nel minuto di silenzio dedicato a Gigi Riva, il leggendario attaccante del Cagliari scomparso ieri. Questo gesto ha suscitato indignazione tra chi considera Riva un simbolo non solo calcistico, ma anche culturale della Sardegna. Tale comportamento, seppur irrespettoso, è radicato in differenze culturali e religiose in Arabia Saudita, dove la pratica del minuto di silenzio è vista con disapprovazione. Il minuto di silenzio è infatti considerato in Arabia Saudita come bidà, ovvero un'innovazione rispetto alla tradizione non praticata dal profeta Mahometto e quindi ritenuta non adatta. La Federazione Calcistica dell'Arabia Saudita ha affrontato reazioni internazionali simili in passato. Questo episodio mette in luce come lo sport sia un terreno in cui si intrecciano culture, tradizioni e valori diversi. La sfida rimane quella di trovare un equilibrio tra il rispetto delle diverse tradizioni culturali e religiose e la celebrazione delle figure iconiche dello sport, in un contesto di reciproco rispetto e comprensione. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Con questo per oggi da Newsmond è tutto. Per ulteriori informazioni e approfondimenti non dimenticatevi di cliccare sul link nelle storie. Un saluto!